Ciao amici di Automobile.it, siete pronti per le vacanze? Beh, le scuole sono finite, da qui in avanti saranno strade piene di gente e code ai caselli Weekend da bollino nero ovviamente ai costi della benzina alle stelle Vabbè dai, non vediamo proprio tutto nero eh, viaggiare in auto è bello anche se qualche volta non va tutto liscio Ma proprio per evitare sorprese fate due cose subito Iscrivetevi al canale e ascoltate i miei consigli, tutto ovviamente gratis Non prendetemi per un fanatico, ma se io mi preparo per un viaggio voglio che l'auto sia l'ultimo dei miei problemi Quindi dedico un po' di tempo per vedere se tutto è in ordine Specialmente se durante l'anno l'ho un po' magari trascurata Per prima cosa i suoi e i miei documenti Sono sicuro che il libretto di circolazione l'avete, ma la revisione e la patente sono da posto? Ve lo dico perché c'erano state delle proroghe per via della pandemia, ma ora tutto è tornato come prima Quindi la revisione dell'auto deve essere fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione E poi ogni 2 anni E se vi beccano senza la revisione, di sicuro le vostre vacanze saranno brevissime Così come se avete la patente e l'assicurazione scadute E a parte la revisione, è importante che l'auto sia in ordine per essere sicura E la prima cosa da guardare ovviamente sono le gomme Pressione corretta, magari un pochino più alta del normale se viaggiate a pieno carico Senza dimenticare poi la ruota di scorta, ovviamente se c'è E i battistrate ragazzi devono essere in ordine Minimo di legge 1,6 mm Ma a me sinceramente viene già l'ansia quando ho 2 mm E non sapete come controllarle? Ci penso io, tranquilli Guardate a fianco della gomma e lungo la circonferenza Vedrete che ci sono tre letterine TWB Che vogliono dire Tread Wear Indicator Ok, che è l'indicatore di consumo Da quel punto guardate verso il battistrada Vedete un piccolo rilievo in uno dei solchi È alto proprio 1,6 mm Quindi se è allo stesso livello dei tasselli C'è il gommista che vi aspetta E mi raccomando non ignorate questo punto Perché in estate controllano parecchio anche questa cosa E ovviamente anche per ragioni di sicurezza E continuiamo In auto ragazzi Ci sono delle dotazioni obbligatorie da avere per legge Che sono il triangolo e il giubbino di emergenza Tutti ci auguriamo di non doverle mai usare Ma ci devono essere Mi raccomando Io però aggiungerei anche qualcosa Anche che può tornare utile Come un piccolo kit magari di pronto soccorso E una torcia elettrica E le lampadine di scorta Anche se oggi poi con i fari a led Ci sono moltissimi meno problemi Va da sé che poi ho sotto controllo Il kit di gonfiaggio delle gomme Ed eventualmente gli attrezzi per smontare o pneumatico Ma vi voglio fare una raccomandazione Cambiare una gomma o usare il kit È una faccenda un po' lunga E per certi versi pericolosa Quindi se vi dovesse capitare di bucare Non fermatevi dove capita Ma solo in un posto molto ma molto sicuro Non avete idea di quanti incidenti accadono Perché qualcuno ha provato a cambiare la gomma Dietro ad una curva O sulla corsia di emergenza Senza avere lo spazio a sufficienza Quindi ragazzi Ok il capitolo auto Ce lo possiamo lasciare alle spalle Ora però è il momento di preoccuparci Dei passeggeri Ci sono bambini E allora vi servono dei seggiolini adatti Ma se avete dei figli Probabilmente lo sapete già Cinture allacciate per tutti Anche per gli adulti dietro E mi raccomando E un guidatore bello sveglio Ecco queste sono le altre due cose Irrinunciabili per mettersi in viaggio Ah e gli animali Abbiamo sistemato le quattro ruote Ai passeggeri Ma i nostri amici pelosetti Ecco Devono stare anche loro al sicuro Quindi dentro le apposite gabbiette Fissate agli attacchi Delle cinture posteriori O nel bagagliaio E per i cari di taglia extra large Ci sono anche delle apposite pettorine E il carico dei bagagli? Lo so che siete già degli esperti Ma lasciate che vi dica un paio di cose Prima di tutto Meno cose mettete sul tetto Meno consumerete Quindi se proprio non è necessario Niente portapacchi Portabici O altre portacose E se proprio viaggiate con il carico sul tetto Fate in modo che ci rimanga per tutto il viaggio I fissaggi vanno fatti a regola d'arte E controllati molto spesso Nel bagagliaio mettete le cose più grosse e pesanti In basso E se ci riuscite Non superate il livello della capperiera Per non costruire la vista dello specchio interno Poi se proprio dovete mettere qualcosa sopra Il livello della capperiera Metteteci solo cose leggere Che non divettino proiettili In caso di frenata brusca Poi manca solo da decidere l'orario della partenza Ma lasciate perdere quello che dicevano i nonni Che col buio si viaggia più freschi E altre perle di saggezza Tutte cavolate Col buio si dorme Quindi mettetevi in viaggio dopo aver riposato E nemmeno troppo presto al mattino Fate una pausa ogni due ore al massimo E cercate di non fare gli eroi Che si sparano mille chilometri in un solo giorno Programmate il viaggio con un po' di furbizia Anche in base al traffico Oggi tutti con lo smartphone O sistemi di navigazione Insomma si può vedere facilmente Quali sono gli orari di punta Su tutti i percorsi E anche le varie strade alternative E potevo dimenticarmi degli elettronauti Ebbene cari soci Voi siete maestri nel programmare un lungo viaggio Lo so E se non lo siete Lo diventerete presto Perché chi viaggia in elettrico Vista la situazione dei punti di ricarica Forse ancora un po' scarsi Al sud Pianificare necessi est Come avrebbero detto i latini Se avessero avuto le auto elettriche ovviamente Vita più facile però Per chi guida una Tesla naturalmente Ma anche con le altre elettriche Facendo le pause giuste Si arriva a destinazione tranquillamente Sempre che vi richiordiate i connettori per la ricarica Quindi fidatevi di quel che vi dicono i sistemi di bordo E tenete conto che con la velocità e il pieno carico Le auto Tutte le auto Consumano un pochino di più Avrò i proprietari poi di ibride plug-in E posso dire di partire con la batteria carica Ma questa energia si esaurirà praticamente molto presto Se fate un viaggio in autostrada Quindi poi proseguirete a benzina E non vale la pena di fare soste troppo lunghe per ricaricare Che i libri dei ricaricabili non accettano le fast charge Quindi poi a proposito di consumi Penso non sia una notizia inedita Ma lo sapete che in autostrada Il prezzo della benzina e del gas aglio Sono semplicemente pazzeschi vero? Quindi una volta forse Non ne valeva la pena di uscire Ma oggi secondo me Fare un pieno in aeroservizio A 2,30€ al litro È una fesseria grande come una casa Quindi magari da un distributore appena fuori Si paga anche il 25-30% in meno E si fa forse una pausa più tranquilla Magari in una trattoria di campagna E con questo video ragazzi Vi ho detto come prepararvi per i lunghi viaggi Ma di sicuro anche voi avrete i vostri suggerimenti Quindi io vorrei che mi iscriveste qui sotto nei commenti E intanto io vedo fare i bagagli Magari E un saluto dal vostro Matteo E alla prossima Ciao